Salve, sono Troy McClure, forse vi ricordate di me per alcuni special della Fox come Alien Plastica Nasale e 5 favolose settimane al JVC The Show. Salve, sono Troy McClure, forse vi ricordate di me per alcuni speciali. Salve, sono Troy McClure, forse vi ricordate di me per alcuni speciali. Salve, sono Troy McClure, forse vi ricordate di me per alcuni speciali. Salve, sono Troy McClure, forse vi ricordate di me per alcuni speciali. Salve, ma lei che fa? Segue per caso mio marito? Signora, è lui che paga l'università ai miei figli. Grazie a tutti